Ciao, io sono Giulia Lusetti, ho 22 anni e vengo da Roma. Mi sono diplomata al giugno 2012 alla Fonderia delle Arti di Giampiero Ingrassia, sempre a Roma. Il mio sogno è fare la performer. Ora come ora sono impegnata più sulla scrittura, perché la scrittura è un altro ambito che diciamo ricopro. Però il sogno principale rimane quello di stare sul palco, cantare, recitare, ed è quello che ho fatto durante questi anni in Accademia. Dove trovo la passione? Io chiudo gli occhi e c'è una vocina che mi dice cosa devo scrivere. Bisogna essere preparati a tantissime crisi e bisogna uscire da tutte le crisi a testa alta non perdendo mai la passione che ci ha portato ad intraprendere questo percorso. Perché la vita in Accademia è bellissima, è una cosa stupenda, ma allo stesso tempo ti pone davanti delle difficoltà di te stesso, del rapporto con gli altri, che diciamo molti sono caduti in questa trappola. Però i più forti e più determinati resistono e vanno avanti. Io sono stata a Londra e ho visto tre musical quest'inverno. Prima di vedere questi musical, il mio musical preferito era il Fantasma dell'Opera. Poi ho visto Le Miserable, quindi diciamo che sono più proiettata verso Le Miserable come musical preferito. Gli ringraziamenti sono tanti. Innanzitutto mia mamma e poi tutti i miei professori che mi hanno sempre sostenuto in tutto il cammino. Un grande ringraziamento va alla mia classe, che sono le altre 16 persone che hanno percorso con me questo percorso appunto. Ai Musical, grazie di tutto e dell'opportunità di esprimerci anche a noi che stiamo cercando di mettere piede in questo mondo. Tantissimi auguri, qualsiasi cosa, chiamateci, siamo qua. Grazie ancora. Grazie a tutti.